Una rinnovata e sostenuta attenzione da parte delle istituzioni alla drammatica insufficienza di dipendenti sanitari durante i periodi festivi e l'auspicio del consigliere del gruppo misto Aurelio Pace, che condivide quanto denunciato dal sindacato FIAS sull'ospedale di Melfi. Per l'esponente politico, l'attività del personale sanitario, che opera in condizione di costante impegno e attenzione, va analizzata anche alla luce della qualità del lavoro svolto dagli operatori, ai quali non possono essere richieste condizioni di lavoro estenuanti e logoranti. Occorre tenere alta l'attenzione della politica regionale nei confronti di questa emergenza e provare a porvi rimedio quanto prima e che osa pace, sia per offrire condizioni di lavoro apprezzabili e soddisfacenti agli operatori sanitari e sia per proporre agli utenti un servizio sanitario adeguato e funzionale.